È una vita restituita, era una vita persa e appunto grazie ai miei colleghi che si sono adoperati nell'ottenere questo successo possiamo dire che Marta è anche un po' nostra. Da Pistoia ad Arezzo alla ricerca di una soluzione alternativa all'interruzione di gravidanza per una grave carenza di liquido amniotico, una scelta che adesso ha salvato la vita alla piccola Marta. Mamma Valentina già alla quattordicesima settimana di gravidanza aveva avuto seri problemi e le cose purtroppo con il passare del tempo non erano migliorate, anzi alla ventesima settimana la scoperta che il liquido amniotico era ridottissimo. Questa è una condizione gravissima in gravidanza perché il liquido amniotico è fondamentale per lo sviluppo degli organi del bambino e soprattutto per lo sviluppo dei polmoni. Così l'interruzione della gravidanza diventava un'ipotesi sempre più concreta. Loro ci hanno espressamente detto che volevano evitare questo tipo di scelta e avrebbero corso il rischio di affrontare ulteriori complicanze però volevano avere una speranza. La donna assieme al marito Gabriele non si è mai persa d'animo e da Pistoia è arrivata ad Arezzo dove l'equip di ginecologia del San Donato ha compiuto quell'impresa che in pochi avrebbero creduto possibile grazie all'amnioinfusione. Abbiamo informato bene la mamma e il babbo dei possibili rischi e dei possibili vantaggi e insieme abbiamo deciso di percorrere questa strada. L'intervento di amnioinfusione che è stato fatto più volte viene fatto con un ago che si utilizza anche per l'amniocentesi che viene inserito nel sacco amniotico che contiene il bambino con i liquidi amniotici e lì è stata infusa una soluzione fisiologica. La piccola Marta è nata il 7 maggio scorso, prematura ma comunque sana. La bambina è nata 34 settimane che è un'epoca vitale, è un'epoca in cui il comfort da parte nostra sta bene, respira da sola, non ha malformazioni e noi siamo contenti quanto i genitori.